Mi piace girare tutti i giorni su questo parco verde per scambiare due parole con le mie amici. Si chiede che domani ci piacciono anche loro questo scone, ci si fa piacere. Gli anni iniziano a farsi sentire? Le gambe non sono più quelle di una volta? Allora pensate ad un sistema pratico, maneggevole, sicuro per la vostra movimentazione o quella dei vostri cari. Voglia di autonomia?